Ciao a tutti ragazzi e volete realizzare dei dolcetti veloci e golosissimi? I pavesini alla nutella e caffè è la giusta soluzione. Ho utilizzato i pavesini, ne ho preso uno e l'ho spalmato appunto con abbondanti nutella, siate generosi non preoccupatevi, ecco l'ho spalmato bene e sono andata a ricoprirlo con un altro biscotto, ecco fatto, dove andrò a passarli nel caffè. Ecco, vado a passarli bene e poi di conseguenza li passo nel caffè, eccoli pronti, vedete? Ora proseguite con tutti gli altri per la quantità, vedete voi quelli che vi servono, eccoli pronti, sono buonissimi ragazzi, sono sicura che piaceranno anche voi, provateli, alla prossima, ciao!